Musica Bene cari amici ben trovati, siamo a Palestrina qui vicino Roma, siamo nel negozio di Davide Tossali, un negozio fornitissimo, Armeria TNP, un negozio che potete visitare perché offre tante possibilità in fatto di caccia, di tiro, di pesca, di arceria e anche di fuochi e di giochi artificiali. Bene Davide, vogliamo presentare ai nostri amici telespettatori il tuo negozio? Sì, salve a tutti, qui nel mio negozio per la pesca troverete tutti quei marchi che sono il top sul mercato, abbiamo Preston, Diva, Tubertini, Colmich, Milo, Vandenend, Sonobite, abbiamo tutte quelle marche che sono veramente le migliori sul mercato, abbiamo sempre le novità qui disponibili al negozio per vederle e toccarle con mano. Bene, non è solo un negozio fisico dove potete venire per acquistare i vostri prodotti, ma è anche un negozio da poco tempo online. Il negozio Armeria TNP.it è il nuovo negozio di e-commerce dove potete acquistare tutti i vostri prodotti sfogliando comodamente da casa vostra il catalogo che Davide vi offre. Tante novità, tanti prodotti di qualità, come abbiamo potuto vedere, a prezzi veramente imbattibili. Ci vuoi parlare di questa esperienza di e-commerce? Sì, abbiamo appunto fatto un sito e-commerce per rivolgerci a una fetta di mercato maggiore che è quella qui di Roma e della provincia. Ci rivolgiamo a una clientela su tutto il territorio nazionale e offriamo ottimi sconti ogni mese. Il nostro sito online è www.armeria.it.it. Inoltre per tutti i soci LBF abbiamo dei sconti particolari perché questo è un LBF point. Bene, LBF significa pesca e pesca a feeder. Ci sono due clienti importantissimi, due volti noti della pesca in Italia, Fernando Carnevale e Francesco Di Varonica. Sono due clienti di questo negozio, due tuoi collaboratori, che andremo adesso a sentire. Siamo qui con Nando e Francesco, due carissimi amici esponenti dell'LBF in Italia. Grazie a loro il mio negozio è diventato un punto di riferimento per la pesca a feeder in Italia. Davide, cosa trova un pescatore che viene qui? Beh, trova soprattutto le ultime novità che sono in commercio, poi trova anche un po' di esperienza perché essendo pescatore posso consigliare al cliente che viene magari un prodotto che gli si addice più rispetto ad un altro. Davide, ma un cliente che viene qui trova solo feeder? No Nando, assolutamente, qui nel mio negozio troviamo di tutto, dalla pesca con la ruba sienne, alla bolognese, allo spinning, al car fishing, al beach ledgering, al trota laghetto, trota torrente, abbiamo tutto l'occorrente per andare a pesca insomma. Bene, cari amici, ci siamo trasferiti nella sezione dedicata alla caccia, dedicata alle armi e qui, come potete vedere, siamo ben attrezzati, quindi fucili, pistole di ogni marca. Davide, vedo che hai un fucile in mano e dietro di noi abbiamo tante armi, ci puoi fare una carellata, una presentazione di quella che è la tua fucileria, se così si può dire? Sì, allora abbiamo fucili da caccia, trattiamo varie marche, Winchester, Benelli, Beretta, Franchi, e abbiamo anche carabine da tiro, abbiamo pistole da tiro per difesa. Questa cosa è? Questa qua è nata in foglio, è un'ottima pistola per il tiro sportivo. Bene, cari amici, siamo con Manuela, la titolare del negozio, la mamma di Davide, che vi può accogliere anche per soddisfarvi nelle vostre esigenze per quanto riguarda fuochi e giochi pirotecnici. Manuela, vedo che hai in mano qui sul banco diversi prodotti, a chi vi rivolgete per la vendita di questi articoli? A persone che comunque abbiano il porto d'armi e a persone che siano maggiorenni, perché comunque i fuochi d'artificio si diviscono in quarta categoria porto d'armi e quinta categoria C con basta essere maggiorenni. Ecco, voi li vendete non solo per le feste più ricorrenti come l'ultimo dell'anno, ma anche per qualsiasi tipo di festa o cerimonia, giusto Manuela? Sì, per le comunioni, i battesimi, anche per i compleanni. Ecco, avete prodotti che comunque qui possono essere trovati per tutto l'anno, giusto? Giusto, tutto l'anno abbiamo una vostra scelta. È consigliata una prenotazione o avete un ampio magazzino a disposizione? Abbiamo un ampio magazzino a disposizione, non c'è bisogno. Se qualcuno vuole qualcosa di particolare può anche prenotare, altrimenti trova tutto. Bene, quindi oltre alle canne, ai fucili, alle pistole, all'arceria, anche fuochi pirotecnici. Qui a Palestrina. Grazie. Cari amici, vi salutiamo e vi aspettiamo sia sul nostro sito online www.arberiatp.it oppure qui presso nel nostro negozio. Un saluto a Palestrina. Grazie a tutti.